Prima di iniziare, alcune informazioni di servizio. Questo video è parte della terza edizione della Summer of Mud Exposition, organizzata da Grant Sanderson di 3Blue1Brown. E, per questo motivo, su questo video saranno disponibili anche i sottotitoli in inglese. La trasformata di Fourier è una delle operazioni più famose nella matematica, per così dire, più avanzata. Si tratta di questo operatore che permette di scrivere una funzione in un modo che descrive le frequenze presenti nella funzione originale. Ma oggi non parleremo di questa trasformata. Ma di una cosa molto più leggera, partendo da questo fumetto di SMBC Comics, in cui si dà un'altra interpretazione del termine Fourier. Infatti, in inglese, la desidenza R viene usata per indicare un comparativo di maggioranza. Quindi un numero che è Fourier è un numero che, in un qualche modo, è più four degli altri. Inoltre, la desidenza Est indica invece un superlativo di maggioranza. Quindi il numero Fourier sta il numero con più quattro di tutti. Ora, per ottenere un numero Fourier rispetto a un altro, basta aggiungere un quattro. L'aspetto più interessante del fumetto di SMBC Comics, invece, è quello di capire come scrivere un determinato numero, di modo che sia il più furious possibile. Al che vi potreste chiedere, in che senso come scrivere? Noi siamo abituati ad un solo modo per scrivere i numeri, il sistema decimale, formato da dieci cifre, dallo zero al nove. Però sicuramente avrete sentito del sistema binario, composto solo da due cifre, zero ed uno. E questo è il sistema utilizzato da tutto ciò che concerne l'informatica. L'unico motivo per cui utilizziamo dieci simboli viene dal fatto che abbiamo dieci dita sulle mani. E ciò ci permette quindi di avere un facile modo per tenere il conto utilizzando il nostro corpo. Ma non è l'unico modo, e non possiamo nemmeno dire che sia il migliore. Ad esempio, gli antichi egizi utilizzavano un sistema basato sul numero 12, contando sulle falangi delle quattro dita di una mano e utilizzando il pollice per tenere il conto. Tra l'altro, questo sistema, detto sistema dozzinale, permetterebbe di avere modi facili per dividere per tre, e anche le tabelline risulterebbero piuttosto semplici. Ma sto divagando, oggi non parleremo di questo. Infatti nel video di oggi vedremo cosa significa scrivere un numero, come si passa da una scrittura a un'altra, e come si trova la scrittura che permette ad un determinato numero di essere il FURIEST. Benvenuti su Matita. Cominciamo. Come prima cosa dobbiamo capire come si scrive un numero. Partiamo dal sistema con cui siamo più familiari, il sistema decimale. In questo sistema abbiamo un insieme di dieci simboli, chiamati cifre, che servono ad indicare le quantità da 0 a 9. Cosa succede se vogliamo indicare una quantità più grande di 9, ovvero la nostra quantità massima data dalle nostre cifre? Ebbene, qui entra in gioco il fatto che i sistemi di scrittura di numeri che utilizziamo siano posizionali, ovvero utilizzano la posizione per indicare quantità via via più grandi. Infatti, quando arriviamo a 10, scriviamo questo numero come 1, 0, ed indica il fatto che abbiamo una quantità di 10 e 0 quantità di 1. Con due simboli possiamo quindi scrivere moltissimi nuovi numeri. 2 quantità da 10 e 7 da 1, 4 quantità da 10 e 2 da 1, 9 quantità da 10 e 9 da 1. A questo punto, come facciamo ad andare oltre a indicare una quantità di 100, ovvero di 10 alla seconda? Si introduce una terza cifra a sinistra, e quindi 100 si scrive in questo modo. Una quantità di 100, nessuna quantità di 10 e nessuna quantità di 1. Abbiamo quindi che ogni posizione rappresenta una potenza della base, nel nostro caso 10, moltiplicata per la quantità rappresentata dalla cifra in quella posizione. Il totale rappresentato è la somma di queste quantità. Il sistema posizionale ha enormi vantaggi. Innanzitutto permette anche di avere quantità più piccole dell'unità inserendo un simbolo, ad esempio un punto, che separa la parte intera da quella decimale, e, andando via via a destra, abbiamo potenze decrescenti della base. Un altro vantaggio è lo svolgimento di operazioni, come la somma e la moltiplicazione. Ormai noi siamo abituati a questo sistema, e ci sembra anche l'unico ammissibile, ma nella storia ci sono stati anche altri sistemi di scrittura, di numeri, ad esempio il sistema usato dagli antichi romani, che non era posizionale. Ed infatti gli antichi romani non erano molto agili nello svolgere operazioni. Col loro sistema di rappresentazione era tutto estremamente più complicato. Vediamo un altro sistema posizionale molto conosciuto. Il sistema binario, ovvero in base 2. Si tratta di un sistema di scrittura numerica basata su solo due simboli, 0 ed 1. In pratica per ogni posizione stiamo dicendo se la rispettiva potenza di 2 vada considerata o meno. Vediamo cosa significa con un esempio. Partendo da destra, se la prima cifra è 1, 0, il numero è pari. Se invece la cifra è 1, il numero sarà dispari. Se il numero successivo è 1, dobbiamo aggiungere 2 alla quantità. Se è 0, invece no. La cifra successiva ci dice invece se dobbiamo aggiungere una quantità di 4. E così via con le potenze successive di 2. Un altro sistema piuttosto utilizzato è il sistema esadecimale, ovvero in base 16. Ci servono quindi 6 simboli aggiuntivi rispetto al sistema decimale. E con poca fantasia possiamo decidere di usare le prime 6 lettere dell'alfabeto come simboli aggiuntivi. Quindi A indica una quantità di 10, B una quantità di 11, C una quantità di 12 e così via fino alla F che indica invece una quantità di 15. Ad esempio il numero C21A rappresenta una quantità pari a 10 unità, una sedicina, 2 volte il quadrato di 16 e 12 volte il cubo di 16. Abbiamo visto come si possa tradurre un numero scritto in un sistema numerico generico in forma decimale, estraendo la quantità rappresentata in una notazione a noi nota. Bisogna partire da destra, moltiplicare la quantità rappresentata della cifra per la base del sistema considerato elevato alla potenza data dalla posizione, e poi si somma il tutto. Ma come fare se volessimo fare il contrario? Ovvero passare da un numero scritto in forma decimale a una forma scritta utilizzando un'altra base? Per fare ciò dobbiamo utilizzare delle operazioni che in realtà conosciamo già dalle elementari, la divisione ed il resto. Partiamo da un esempio. Immaginiamo di voler scrivere il numero 7453 in base 4, ovvero utilizzando le cifre da 0 a 3. In quanto segue tutti i numeri saranno scritti in forma decimale per comodità. L'unica eccezione sarà la scrittura espressa in base 4, che comunque nel video verrà denotata in modo appropriato. Per capire come costruire un algoritmo che riscrive il nostro numero in base 4, ragioniamo bene su cosa vogliamo fare. Vogliamo calcolare le cifre x con i, di modo da poter scrivere il numero in questo modo. Non preoccupatevi, la somma è infinita, ma a un certo punto tutte le cifre diventeranno 0, permettendoci quindi di scrivere il numero in modo più semplice. Allo stesso modo nel sistema decimale non scriviamo 7453 con infiniti 0 davanti. Andiamo in ordine, partendo dalla cifra x con 0. E notiamo subito una cosa molto importante. Possiamo raccogliere un 4 su tutti i termini tranne x con 0. Quindi se dividiamo il nostro numero per 4, ovvero la base, ci rimarrà un quoziente, che è l'argomento dentro le parentesi, ed un resto, che sarà proprio x con 0. Quindi la nostra prima cifra, x con 0, sarà 1. Come calcoliamo invece x con 1? Possiamo rigirare l'espressione che stavamo studiando. E per calcolare x con 1 possiamo seguire lo stesso ragionamento che abbiamo utilizzato per x con 0. E x con 1 sarà quindi il resto della divisione di 1863 con la base 4. La nostra seconda cifra da destra è quindi 3. Per trovare la terza cifra ci troviamo nello stesso scenario di prima. E questa volta il resto è 1 e il quoziente è 116. Andando avanti abbiamo che 116 diviso 4 restituisce 29 con il resto di 0. 29 diviso 4 restituisce 7 con il resto di 1. 7 diviso 4 risulta in un quoziente di 1 con il resto di 3. Ed infine 1 diviso 4 risulta in un quoziente di 0 con il resto di 1. Abbiamo quindi che il numero 7453 scritto in base 4 è 131031. L'algoritmo è quindi piuttosto semplice. Si tratta di iterare sempre due passaggi. Calcolare il resto della divisione tra valore e base e salvarlo. Dividere il valore di partenza per la base e tornare al punto 1. Ci fermiamo quando il quoziente risulta essere 0. Abbiamo ora tutte le conoscenze necessarie a risolvere il problema. Ma prima un paio di osservazioni. La base è furia se non è detto essere unica. Prendete ad esempio proprio il numero 4. In qualsiasi base maggiore o uguale a 5 si scrive sempre nello stesso modo, come un singolo 4. Ma ci sono anche esempi meno banali. Ad esempio il numero 431 ha al massimo un solo 4 e lo ha, oltre che in base 10, anche in base 7, 61, tutte dall'87 al 107 e poi 427. Un altro aspetto da tenere a mente è che ogni numero n maggiore o uguale a 5 ha una base che garantisce la presenza di almeno un 4 e la base è n-4, per cui il numero si scrive proprio 1, 4. Come fare per calcolare la base Furiest? Beh, c'è un solo modo. La forza bruta. Ovvero provare tutte le basi possibili tenendo traccia di quale o quali restituiscano la scrittura con la maggior quantità di 4. Sappiamo che arrivando a una base di n-4 ci garantisce la presenza di un 4, mentre tutte le basi maggiori non ne avrebbero nessuno. Quindi può sembrare che si debba provare tutte le basi fino ad n-5, per vedere se in questo modo abbiamo almeno due copie della cifra 4. Ma per numeri molto grandi questo processo inizia a richiedere un tempo macchina non indifferente. Ci serve quindi un modo per essere più furbi, cercando di ridurre il più possibile il numero di basi da cercare. Come potete immaginare non è un problema molto studiato, quindi non ho trovato della letteratura a riguardo. Ma vi proporrò una mia idea in cui il limite massimo per la base si aggiorna mano a mano che troviamo nuove espansioni sempre più Fourier, e anche la soluzione proposta da Paul su MathStackExchange. In entrambi i casi voglio che sia chiaro un aspetto. Il metodo per trovare la base Furiest è sempre lo stesso, ovvero continuare a cercare provando tutte le basi. La differenza sta nel quando smettere di provare. L'idea che mi è venuta per provare a ridurre il numero di tentativi parte da un'osservazione in realtà piuttosto semplice. Possiamo conoscere quante cifre avrà un numero in una qualsiasi base. Ad esempio, in base 10, un numero di 4 cifre avrà un valore massimo di 9999, ovvero 10 alla 4 meno 1. Questo si può generalizzare in ogni base ed ogni numero di cifre. In genere, quindi, abbiamo che il massimo numero esprimibile in una certa base B e utilizzando n cifre è dato da B alla n meno 1. Possiamo quindi esplicitare il valore del numero di cifre, come il logaritmo in base B di m più 1, ed anche il valore della base come B uguale alla radice ennesima di m meno 1. Da questo semplice calcolo abbiamo che per un generico numero m piccolo il numero di cifre massimo necessario a rappresentarlo sarà sempre minore o uguale alla parte intera superiore del logaritmo in base B di m più 1. Allo stesso modo, per riuscire a scrivere m utilizzando almeno n cifre, la base dovrà essere minore o uguale della parte intera superiore della radice ennesima di m più 1. Ad esempio, prendiamo il numero m uguale a 23.576. Se vogliamo scriverlo utilizzando 8 cifre, la base dovrà essere al massimo 4. E infatti, se scriviamo il numero 23.576 in base 4, otteniamo una sequenza di esattamente 8 cifre. Già in base 5, invece, otteniamo una sequenza di sole 7 cifre. In che modo questa cosa ci torna utile? Beh, vediamolo proprio con l'esempio della striscia di SMBC Comics. Prendiamo il numero 624. Inizialmente sappiamo solo che, in base 620, il numero si scrive con la sequenza 1-4. Iniziando con base 5, abbiamo che il numero viene scritto come una sequenza di 4-4. Di conseguenza, per avere una base che renda il numero più Fourier, ci servono almeno 5 cifre. Ma, per poter scrivere il numero 624 utilizzando 5 cifre, la base deve essere minore o uguale a 4. Questo significa che in nessuna base superiore a quella che abbiamo già controllato, ovvero 5, potrà contenere 5-4. E di conseguenza possiamo già fermare la nostra ricerca. Vediamo un altro esempio, con il numero 1.378.442. In base 6 abbiamo che il numero contiene già 2-4. Per avere almeno 3-4 ci servono almeno 3 cifre. E la base B non può quindi superare 112. Pensate a quanti controlli inutili ci risparmiamo. Controllare fino all'ultimo valore utile ci farebbe fare 1.378.438 controlli. Invece, adattare il limite della nostra ricerca riduce il numero di controlli a solo 112. In pratica una riduzione del lavoro del 99,9187%. Non male. Vediamo invece la proposta di Paul. La sua idea è quella di creare prima una sorta di tabella di possibili basi che diano un numero noto di 4. Una già la conosciamo. Se la base è M-4, allora il numero M si esprimerà come 1-4. Ci sono poi 5 possibili basi le quali restituiscono un numero con esattamente una coppia di 4. Ovviamente questo funziona solo nel caso in cui la base a sinistra risulti essere un numero naturale, in quanto deve essere una base. Non entrerò nei dettagli di come ottenere la tabella. Vi lascio direttamente il posto di Paul tra i link in descrizione. L'idea è quindi quella di utilizzare questi valori tabellati per trovare una base in cui il numero verrebbe scritto con esattamente una coppia di 4. C'è però un limite a questo metodo. Sia nel caso in cui una di queste basi fosse valida, sia nel caso in cui non lo siano, si deve comunque compiere una ricerca esaustiva su altre possibili basi per essere sicuri non ne esistano in cui il numero possa essere scritto con 3 o più 4. Questa tabella può quindi essere usata come tentativo iniziale. Se infatti trovassimo subito una base in cui il numero viene scritto con 2-4, il numero di basi da controllare scenderebbe alla radice del numero stesso, grazie al metodo di prima. Quindi un buon algoritmo potrebbe prima testare queste 4 basi, nella speranza di trovare subito una base in cui si abbia una coppia di 4, e da lì fare una ricerca esaustiva usando il metodo in cui si aggiorna via via la base massima da controllare. Grazie per avermi seguito fino a qui. Spero che il video vi sia piaciuto. A presto. Grazie per avermi seguito.